Guardate questo, guardate, la notte inizia da ora e lì c'è Venom che va affrontato, purtroppo insieme a Venom ci sono anche i suoi scagnozzi che sono i signori qua Che purtroppo raga io ve lo posso garantire sono tantissimi e sono difficilissimi da uccidere, cioè nel senso già solo avvicinarsi a Venom è un'impresa proprio della madonna Perché è letteralmente impossibile, cioè secondo me c'è qualche cosa E allora avete visto raga, avete visto questi salti che io faccio? Posso farli? Perché sono tipo strano Guarda, allora, ho lei, vedete, vedete perché io salto sui muri no? Ma raga io perdo la pazienza però perché allora io ho messo Venom però purtroppo non posso togliere gli scheletri Se no rompono, cioè non spawna nemmeno Venom è questo il problema Perché allora dai vieni qua perché questa è una mod no? È il signorino, eh però gli sto facendo un po' di, madonna mia Però vedete che fa tutto quanto più difficile, ok via in casa Andiamo a recuperare immediatamente vita perché sto morendo letteralmente E ricordiamoci che avevamo il super potere di saltare sui muri Cosa assolutamente fighissima Ho peraltro scavato anche questo buco qui nel caso dovessimo attirare tipo i mob verso casa e ucciderli da qua E sì lo so che non ho molto ma non giudicate per favore Cioè nel senso sono un poveraccio, va bene Ne siamo tutti consapevoli Però cioè adesso Comunque immaginatevi raga questa mod del saltare in giro così Pum è con i palazzi Tipo in una città su minecraft Con dei mostri che ci inseguono Raga iscrivetevi al canale perché ne vedrete delle belle Vi dico solo questo, vi dico solo questo Iscrivetevi E oh vieni qua bello mio Facciamo un po' di Combattimento, combattimento Vieni qua Eh Aia 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 Il scagnozzone Maiale Vieni qua figlio Non farmi dire tante brutte cose perché Vieni a dire Guarda che se ne ritorna pure qua il signorino Non ti permettere Io ho sentito pure delle cose brutte Cioè degli scheletri Vieni qua Oh le Aia 168 Raga sto qua però Oltre al fatto che picchia Ma è proprio resistente di vita Vedete quella cosa sopra 121 Cioè quella è la sua vita Cioè praticamente lui È molto più Ho un cuore mezzo Ho un cuore Mezzo Via immediatamente Qui dentro E mangia E recupera la cattività Eh Recupera la prima di morire Per la miseria C'è pure un pipistrello Questa cosa è molto strana Di solito pipistrelli Ci sono quando ci sono le maledizioni E secondo me se non riesco ad uccidere prima Venom Prima del giorno Le maledizioni incomberanno su di me Allora Io lo sto attirando verso casa Perché praticamente attirandolo Io posso fare una combo fantastica Cioè praticamente posso Venire qua Ehi ciao Raga dobbiamo stare attenti Perché sto qua può colpirmi Da questo buco Io posso colpirlo Ma come anche lui può colpirmi Manca poco L'ho ucciso Bene perfetto Vi ringrazio per aver visto questo video Iscrivetevi al canale Perché ripeto Ne vedrete le belle E ci vediamo al prossimo video Salterino Ciao Ciao